Un nuovo volto per il litorale di Bari, lungo i 42 km che uniscono Torre Amare a Santo Spirito per ridisegnarlo, sono stati elaborati 8 progetti. Uno di questi, affidato agli esperti dell'Istituto Nazionale di Architettura su mandato di Confindustria e Ance di Bari, prevede il restyling del lungomare Imperatore Augusto, punta di diamante, il progetto di una piscina d'acqua salata in mare, cinta da una passarella a pelo d'acqua da utilizzare come solarium, progetto che si ispira al modello Copenhagen. Nel porto della capitale danesa, infatti, sono state realizzate piscine recintate in mare con le acque del porto costantemente depurate. Quella immaginata a Bari sorgerebbe di fronte ai campetti di calcio della città vecchia, vicino all'arco di accesso alla Basilica di San Nicola. Lo studio di fattibilità preliminare alla progettazione nasce da un protocollo siglato da Confindustria e Ance col comune di Bari ed è stato presentato alla soprintendenza. Se arriverà l'ok, la parola passerà alla giunta de Caro, che potrebbe dare il via ad uno studio economico e al progetto da candidare a finanziamento. Il restyling prevede anche una passarella sull'acqua che unirebbe il fortino Sant'Antonio al porto. Altri interventi riguardano la mobilità sul lungomare, col marciapiede, lato mare riservato a ciclisti e runner e una corsia preferenziale per i bus.